Tutti i podcast che sono nati negli ultimi due anni, cioè sono pessimi, voglio bene a festa, loro sono totalmente incapaci di condurre un podcast, è tremendo in termini di conduzione. Ormai quant'è che c'è uno sto cazzo di podcast, ancora non so boni a condurre decentemente. Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Muschio Selvaggio, presento anche il co-conduttore di questa puntata che è Mr. Mara, molti di voi lo conosceranno per il Cerbero Podcast, è qui perché ha delle nozioni come preparatore atletico, oltre che essere un bravo podcaster, Ciao amici, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti.